Incidente mortale sul lavoro a Massafra, in provincia di Taranto. La vittima, un gruista della ditta Massucco, si occupa di logistica, movimento terra e noleggio macchine. L'uomo Luigi Aprile, di 51 anni, stava spostando una gru da un camion quando la stessa improvvisamente si è inclinata facendo cadere l'operaio dal mezzo. Dopo il volo di circa 10 metri avrebbe sbattuto violentemente la testa, morendo così poco dopo. Sul posto è intervenuto il 118, ma anche lo Spesal, il servizio ASR per la sicurezza sui luoghi di lavoro e i carabinieri di Massafra. Le indagini sono in corso.